È stata un'esperienza diversa dalle altre, dalle tante altre che abbiamo fatto nel tempo. Molto, molto, molto forte. A me, poco dopo che abbiamo iniziato, è venuto in mente l'immagine di alcuni pezzi che si univano. Proprio ho visto i contatti di questi pezzi, non so come spiegarlo diversamente, come i meccano, ecco, che venivano uniti mano a mano. Poi ho sentito una fortissima energia in tutto il corpo, ho sentito vibrare proprio tanto, tanto, tanto il corpo, ho sentito forte questa energia del gruppo. Però mi è rimasta questa sensazione che sento ancora di energia in tutto il corpo, proprio sento vibrare tanto, tanto, tanto il corpo. Grazie, siete meravigliosi come sempre.